Si chiama proprio Castiglione della Pescaia e permetterà a cittadini e turisti di conoscere tutti gli eventi, i luoghi di maggiore interesse, le attività, le iniziative e i servizi della località balneare che saranno a portata di smartphone e tablet a partire dal prossimo lunedì. Il Comune ha presentato la nuova app promossa da Sei Toscana in collaborazione con WeTap che sarà scaricabile gratuitamente. È la prima app che presentiamo proprio per Sei Toscana con un loro collaudatore, quindi con un contributo importante soprattutto in vista del G20. Oggi si entra in un'era sempre più digitale, era fondamentale che un paese come il nostro avesse un'app dove poter conoscere tutto ciò che accade sul territorio. E la collaborazione con Sei nasce dal fatto che Sei ha fatto una piattaforma digitale molto importante per far girare la propria app e tutto il sistema digitale. Ora, importante perché noi disponiamo uno strumento digitale che deve occuparsi di metà della Toscana, quindi è una cosa significativa. E abbiamo deciso di far girare sulla nostra piattaforma digitale le app dei singoli comuni. Oggi presentiamo la prima, frutto della collaborazione storica che abbiamo con Castiglione. L'app è composta da diverse sezioni, come News ed Eventi, in cui sono riportate tutte le iniziative in zona, oltre ad avvisi e notizie in tempo reale grazie alle notifiche. Oppure Vivi il tuo comune, che mette a disposizione dell'utente una mappa che recupera i punti di interesse del comune segnalati su Google Maps e li rende raggiungibili da navigatore satellitare. E la funzione contatta il comune, dalla quale sarà possibile avere un rapporto diretto con l'amministrazione tramite messaggi e foto geolocalizzate. Ci sarà la possibilità di segnalare, come prima era sul sito e tutt'oggi esistente, ma molto più pratica, tutto ciò che non va sul territorio, senza continuare a boicottare e a inflazionare le pagine dei social, che diventano soltanto chiacchiere da bar, quella sarà una invece situazione ufficiale, dove si segnalerà una buca, una disattenzione, un passaggio azzardato o quant'altro, in modo che il cittadino possa essere in contatto diretto con l'amministrazione sempre. Uno strumento innovativo di informazione al cittadino, che si integrerà presto anche con l'app dedicata ai rifiuti che Sei Toscana lancerà a breve. Nei prossimi giorni presenteremo pubblicamente anche l'app di Sei, che ovviamente riguarderà l'attività di Sei, i servizi di igiene urbana, ma diventa un portale che offriamo sostanzialmente al 60% della Toscana, quindi uno strumento di relazione enorme che credo possa migliorare la qualità del rapporto fra Sei e i cittadini, ma in generale fra i cittadini e le istituzioni.